Sono molto soddisfatto, abbiamo raggiunto un risultato che possiamo definire epocale. L'obiettivo che è stato raggiunto è quello del carcere per i grandi evasori e la confisca per sproporzione per i grandi evasori. È un messaggio importante a tutti i cittadini italiani che lavorano e pagano onestamente le tasse e un segnale inequivocabile ai grandi evasori. La cifra che viene considerata è 100.000 euro, di somma evasa. Oltre quella cifra, la pena che attualmente è prevista da un anno e sei mesi a sei anni, adesso invece è prevista da quattro anni a otto anni. Quindi come potete vedere è un innalzamento di pena importante che va a colpire la grande evasione. Però c'è un anno da fare, no? Scusi, vuol dire, io naturalmente sto uscendo da un consiglio dei ministri, quindi esprimo la volontà del governo. Come in tutti i decreti legge c'è sempre poi il procedimento di conversione, ma siccome in Parlamento c'è la maggioranza che ha il governo del paese, la maggioranza stasera ha stabilito inequivocabilmente la norma sul carcere ai grandi evasori e l'ha voluta inserire in un decreto legge stabilendo che la norma entrerà in vigore una volta convertita dal Parlamento. Ma sul contenuto della norma non ci sono dubbi su quanto la maggioranza sia stata determinata. Quando entrerà in vigore la legge di conversione? Su questo diamo spazio al Parlamento e lo valuterà chiaramente il Parlamento. Che modifiche di questo testo in Parlamento? Scusi? Che teme e modifiche di questo testo in Parlamento? Non ho nessun timore perché una maggioranza che decide di inserire nel decreto fiscale una norma dai confini così netti che stabilisce il carcere per i grandi evasori e la confisca per sproporzione per i grandi evasori è una maggioranza che poi non deve temere nulla in Parlamento. La maggioranza è anche alla fine evasoria? No, ma non è un discorso di battaglia. Io so che per lei è importante dire la battaglia di Giuseppe Conte, la battaglia di ogni forza politica e ogni membro del governo porta una sua sensibilità e una sua battaglia. Io dico che stasera è stato raggiunto un obiettivo importante nello stabilire che in Italia vengono premiati i cittadini che pagano le tasse e che lavorano onestamente e viene dato, lo ribadisco, un segnale inequivocabile ai grandi evasori che fino ad ora l'hanno sempre fatta franca. La lotta all'evasione viene rimandata di sei mesi diciamo perché bisogna fare degli aggiustamenti con quanto riguarda i piccoli evasori. Ma non stiamo parlando, lei sta parlando di piccoli evasori, quelle sono norme che riguardano alcuni aspetti della manovra e non c'è niente di rinviato sulla lotta alla piccola evasione. La lotta alla piccola evasione si fa con tutta una serie di norme che sono previste nella manovra, alcune entrano in vigore subito, alcune entrano in vigore dopo. Se poi si vuole girare intorno per non dire la cosa più importante che va detta ai cittadini e cioè che c'è il governo e lo Stato sono dalla parte di coloro che lavorano e pagano onestamente le tasse e decidono finalmente di stabilire che i grandi evasori nel momento in cui evadono pagano e pagano anche con il carcere. Era previsto nel nostro programma, nel nostro accordo di programma, era uno dei punti espliciti, in tanti dubitavano sul fatto che la maggioranza trovasse effettivamente immediatamente una norma per la lotta ai grandi evasori e invece l'abbiamo trovata. Grazie a tutti, buonasera, buon lavoro.